Sì, io ho fatto una puntata di stile 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 è il famoso dottor di due 5 netto saresti una bestia guarda che stile guarda che stile veramente non so ultimo c'è gente che pesa la metà dai batti G.V questa è la tua è un cazzo che ne imbalzi hai fatto nero? G.V sei malazzante a chi arriva? a chi arriva? hai fatto un problema? due e cinquante hai detto che è questa dai due bene ma c'è c'è ah tanto adesso faccio tre palagini No, no! No! Cambia! Oh! Scusami, faccio il gioco. Il gioco è il colino che ci rompia. Come si? Quanti ragazzi ne fanno? Quanti ragazzi ne fanno? Posso fare una pochiera di 10? E' una mia! Tutta la cazzura! Questa è una cosa che si sente! Via! Ma che è nuovo! Non posso fare solo il tirotto? Levi, spende, non te li coni! Non mi vada a vedere! Vediamo! Buon luglio! Grazie a tutti.